Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Ica Sirro e oggi siamo tornati dopo tanto tempo sul mio canale perché non avevo idee, diciamo, di cosa fare. Volevo proporvi Yolanda Sweet, i suoi fantastici slime istantanei, li chiamo io, però ci ho provato oggi ed è venuto uno schifo. Però, c'è un però. Mi è venuta in mente un'altra idea, ovvero il candle slime. Quindi c'è la cera dentro. Non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito col procedimento. Io metto la colla, questa indirizia già perché ho già provato qua in questa ciotola fare questo, un po' di spuma da barba, poca perché tanto ci va la candela quindi non... come se lo faccio abbastanza piccolo. Ovviamente il color non ce lo vado ad aggiungere perché come potete vedere qua c'è già un rosa. Speriamo la candela. Sperando che si stacca sì. Si sta già densa, non chiedetemi perché. Vedete, vado a prendere adesso che è qua vicino a me il mio fidato Hachiboss. Sono tutta sporca. Non ho pochissimo, devo rifarlo sto Hachiboss. Questo qua, che tanto non c'è. Guardate, si è già addensato però... Io non mi fido molto. Vedete, è un po' appiccicoso però... Secondo me è venuto molto bene. Cioè, guardate. Adesso vi faccio vedere. È più morbido di quell'altro. Cioè, se osservate. Cioè, questo adesso è anche più freddo perché l'ho fatto prima. Questo l'ho fatto un po' dopo, quindi... Però se io faccio così, viene un po'. Se faccio così, questo è un po' meno però... Sempre slime bello.